Buon recupero del pallone, possono ripartire Ciao a tutti ragazzi, qui è Dusty Benvenuti in un nuovissimo video di FIFA Proveremo a qualificarci alla Foot Champions Però prima volevo ringraziare Majin Buu Che mi ha omaggiato di questo mouse Ve lo faccio vedere subito Eccolo, bello eh? Se lo muovi si illumina Se volete prendere qualcosa da loro, vi lascio il link in descrizione Iniziamo subito con il primo giro Giocatori di MLS, minimo 4 nei 12 dollari Che palle! Allora ragazzi, io gli acquisti li ho fatti Ho preso Kakà, Howard, Kane e infine Van Damme Ecco, adesso l'intesa fa cagare Ragazzi, noi ovviamente proviamo a vincerla anche con l'intesa 74 Che leftano Che palle! Ma c'è gente che apre FIFA solo per chiudere le partite Ok È riuscito a arrivare l'intesa 91 Ha usato il Gerard Prima a vincerla, dai Kane ne deve fare tre Kakà Kakà per Dybala No 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 Uh Van Damme Per Dybala Ma vaffanculo Check del cazzo No, dai, che palle Ma guarda questo Un tiro Vaffanculo Un'altra modalità più buggata del mondo No, che palle Dai Che cazzo Eh dai Ma guarda qui Ma che palle Ma tutti rimpalli Tutti Ah Sì, vabbè Ma cos'è Eh che palle Zita Ma vaffanculo Kakà Penso che sia inutile Questo gol Però almeno Che culo di gol Oh, forse ce la facciamo È tre minuti Saranno dieci secondi Per il gioco Ma che cazzo Fischi Vaffanculo Allora, questo è il mio Secondo tentativo Proviamoci Per cacà Cacà Niente Dai Ma posso prendere Quello così Che buon'inca Oh Olè Uh Tibala No Sono un coglione Che ho sbagliato Tibala Mannaccia Che all'inno Che cazzo Abbiamo la difensiva Ok Perfetto Dai Fischia Fischia Olè E la prima va Ok Si inizia la seconda partita Insigne Maru No Che palle Cacà Quello fa Tibala Oh E sono solo No Che cazzo Ho fatto Perché quando vinco Faccio solo cazzate Poi prendo gol E Piango come uno stronzo No I'm sick Ne ho entrato Salah No Oh Grande Per i guai Pamm Gonzalo E chiude la partita Dabba Me la va Ma fai salire a chi vuoi Ma sei nel portiere Chi ha segnato il portiere No Cazzo 2 a 1 Ok E finisce qui La seconda partita vinta Andiamo con la semifinale Che è successo Perché sta così Perché è rimasto così Bel gioco Eh Dovrei andare in semifinale Come faccio No Aspetto Ok È andato È andato Allora Ho cambiato modulo Per far giocare Siamsic Che pianici Però Devo giocare solo Con Keen Avanti Ok Iniziamo la semifinale Dai che ci deve andare bene Insigne Vai insigne che sei un treno No Madonna Proprio tempo 0 a 0 Vediamo Keen Mettiamo Dibala Togliamo Kaka Mettiamo Nainggolan Le diamo Howard Mettiamo Andanovic No No Che cazzo ha fatto Madonna Che cazzo di quello Ha fatto Ma dai Dai Ma che cazzo Mi tenevo a Howard Ma vaffanculo Pianici Vaffanculo Dabbala Oh Cazzo Amsic Insigne No Madonna Mia Si va ai tempi supplementari Pianici No La connessione Traversare Si è interrotta Ma come Mi dà il pareggio Adesso Pareggio Devo rifarla Insigne No Madonna Mia Kundogan Che buona Che Palle No Cazzo Insigne No Kakà Gokko Kakà Uno a uno Vai Iguoin No Cazzo Dai Potremmo segnarla Insigne No Cazzo Tempi supplementari Non neanche cambi Penso Oh No Dai Ho calcio D'angolo Dai No Primo tempo Andato a Puttane Dai Non voglio andare Ai riguri Non li so Tirare Solo No Ecco qua Mi sega Mado Meno male Meno male Meno male Trigori Ma sono io Mado Che culo Andanovic Tocca a lui Vado a sinistra Fanculo Tiro di nuovo A destra Vai Che cazzo No Mi sono levato Stavo pure Fermo Che cazzo Sta parando Questo Ma dai Ma questo Lo prende Tutto Vaffanculo Non posso Perdere Così In semifinale Ok ragazzi Siamo In finale Finalmente Il giorno Prima Che inizi La weekend League Vediamo La sua Squadra Importante Stare Tranquilli Andrà Tutto Come Deve Andare Proprio Delle Migliori La squadra Che poi Non ho capito Se In finale Puoi Acchiappare Solo Chi Chi è In finale Anche Lui Oppure Puoi Acchiappare Chiunque Dai Sta questo Da solo Ma cosa Fanno No 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 Che palle La finale Non possono Fa' ste cagate Difensori Si scontrano Insigne Insigne Traversano Dai Con i giri Di merda Mi segna Dobbiamo fare Un gol Assolutamente Almeno nel primo Tempo Dai Berardi Sì Buon avventura Eh Eh Dai Che ce la portiamo A casa Sta qualificazione Dai Sti cazzo Di rimpalli Oh Ma che cazzo Fai No Io Io mando Una mail Alla Io Spazio Dovrebbe essere Un gioco Per divertirsi Invece Mi incazzo Come un cavallo No No Dai Il quarto No Ti prego Porca Troia Possibile 4 a 2 Al trentanovesimo E vai Buon avventura 4 a 3 Ma 7 Gole Il quarantatreesimo Ma che cazzo Di finale Di merda E Buon avventura No No Che stronzo Chiellini Che culo Vai Chiellini Chiellini Madonna 4 a 4 Vai con l'equilibrata No Dai No 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 5 a 4 Ma è possibile In finale Vaffanculo Dai Mancano 10 minuti Ultra offensiva No Per cliccare Ho sbagliato Vaffanculo Ma guarda questo Prende tutto Come la madre Vaffanculo 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 Si può finire 6 a 4 Una finale Forgiven For my wrongs I have just begun Vaffanculo 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 Vaffanculo